Amo, stasera andiamo a ballare, te lo dico, io sono molto super carica. No, Nicole, domani mattina mi devo svegliare presto. Devi svegliare presto per fare che cosa? Siamo in vacanza, ho fatto. Nicole, noi siamo donne del sud e a casa mia si fanno i pomodori. I pomodori, cioè? La salsa. La salsa. Io vorrei cantare questa cancion, io vorrei cantare questa cancion per la mia gente con una passione, con una passione tan forte. Pausa. Andiamo a mangiarlo. Ma lo sapete che è incinta Daniela? Incinta. È il secondo figlio. Secondo figlio? Ma no, meno male che a me ieri sera mi è tornato il ciclo. Ma no, no, mi fai capire, aprite, aprite. Cani, cicli, pomodori, non si fanno. Ma no, ma no, ma no. Ma no, ma no. Grazie a tutti.